Sei cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, cosa rappresenta per te questo rinnovo di contratto? Per me rappresenta tanto, è una grandissima gioia per me, sono qua ormai da dieci anni, ormai Firenze mi è entrata nel cuore e sono veramente tanto felice di poter proseguire con la Fiorentina la mia carriera e non vedo l'ora di riniziare. La scorsa stagione per te è stato un crescendo fino a conquistare la titolarità nella finale di Conference. Ci racconti un po' le emozioni e le sensazioni? È stata l'anno scorso una stagione intensissima, a quest'ora l'anno scorso non sapevo ancora se rimanevo, se andavo via, non sapevo ancora niente, però grazie a tutti, grazie al ministro, grazie al direttore, grazie ai compagni ci ho creduto e piano piano sono riuscito a guadagnare il mio spazio e sono felice, al di là poi purtroppo di come sono andate le due finali, però è stata una grande stagione di tutti. Ecco, il mister e la società ti hanno sempre dato grande fiducia e continuano a dartela, quanto è gratificante questo per te? No, questa è una cosa bellissima, vuol dire che apprezzano molto il lavoro che sto facendo e non posso che ringraziarli e continuare così. Per un ragazzo come te, che viene dalle giovanili e si è allenato in tante parti di Firenze, che cosa vuol dire adesso il Viola Park, poter stare in un centro del genere e soprattutto, dato che hai vissuto proprio tanti ambienti, che cosa vuol dire questo centro sportivo per i giovani che ci cresceranno? Secondo me un centro sportivo del genere in Europa non esiste, è una cosa stupenda, sia per noi della prima squadra che per i ragazzini più giovani. Hai tutto, non manca veramente niente e secondo me farà crescere tanto, ma veramente tanto, la Fiorentina. Una cosa in realtà mancano, sono i tifosi? Quello sì, spero di riabbracciarli il prima possibile perché mancano, sono una parte importantissima per noi, non vediamo l'ora di incontrarli. Ti sarebbe piaciuto celebrare il rinnovo di contratto davanti a tutti i tuoi tifosi? Sì, sarebbe stata una cosa bellissima, però già così a me va super bene, è una gioia, come ho detto prima, immensa aver rinnovato altri anni con questa società e non vedo l'ora di, come ho detto prima, riniziare il campionato, stare tutti insieme e combattere come l'anno scorso. E allora in bocca al lupo per questa stagione. Grazie. Grazie.